Arrestato Matteo Messina Denaro era ricercato dal 1993. Rissa nella serata di venerdì a San Cataldo, un giovane finisce all'ospedale. Caltanissetta, guida senza patente, segnalata una donna all'autorità giudiziaria. Lavori urgenti in via Red Italia a Caltanissetta, avviso del comune, chiusura al transito martedì 17 e mercoledì 18 dalle 9 alle 17. Calcio serie D, San Cataldese vittoriosa contro il Cittanova al Mazzola, eccellenza, Nissa sconfitta sul campo dell'oratorio di Marineo. Bentrovati, è stato arrestato a Palermo Matteo Messina Denaro. Era ricercato dal 1993. Il latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato questa mattina a Palermo dai carabinieri del Ross dopo 30 anni di latitanza. Cappellino, cappotto di montone e occhiali da vista scuri. Era vestito così il superlatitante Matteo Messina Denaro quando è stato catturato nella clinica La Maddalena di Palermo. L'inchiesta che ha portato alla cattura dell'attitante di Castelvetrano è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Matteo Messina Denaro è stato arrestato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo dove si recava da circa un anno sotto falso nome per sostenere delle cure in dei hospital. L'operazione è stata compiuta dagli uomini del raggruppamento speciale dei carabinieri di Palermo insieme al reparto del GIS e dei comandi territoriali. Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano, Ciccio, fedelissimo dei corleonesi di Totorriina, Matteo Messina Denaro era latitante dal 13 giugno del 1993 quando in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, annunciò l'inizio della sua latitanza. Sentirai parlare di me, le scrisse, mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità. Descritto nel tempo dagli inquirenti come un latitante atipico, amante della lettura, della bella vita e delle auto di lusso, è considerato tra i più pericolosi al mondo, condannato all'ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito, strangolato e sciolto nell'acido dopo quasi due anni di prigionia. Per le stragi del 92 costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, oltre che per gli attentati del 93 a Milano, Firenze e Roma. Per il suo arresto negli anni sono stati impegnati centinaia di uomini delle forze dell'ordine, anche all'estero, in paesi come il Venezuela, l'Austria e la Spagna. Una latitanza durata 30 anni è terminata appunto questa mattina, quando i carabinieri delle Rosse lo hanno catturato alla clinica La Maddalena di Palermo e portato alla vicina caserma di San Lorenzo, per poi essere trasferito in una località segreta. Intanto non si sono fatte attendere le reazioni dal mondo della politica, con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che ha espresso grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia. Anche il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha espresso le proprie congratulazioni agli inquirenti e la conferma che lo Stato c'è e che prima o poi tutti i mafiosi vengono assicurati alla giustizia. Oggi tutti i siciliani onesti devono festeggiare. Da domani sarà opportuna una riflessione, ha concluso il governatore siciliano, per capire come sia stato possibile che uno dei mafiosi più pericolosi sia rimasto in circolazione per più di 30 anni. Prissa nella serata di venerdì a San Cataldo, un giovane finisce all'ospedale per trauma cranico e frattura all'ossetto nasale. Momenti di tensione si sono consumati venerdì sera a San Cataldo, dove è scoppiata una rissa per motivi ancora da accertare. Protagonisti della violente elite sono stati tre uomini che si sono affrontati davanti a un bar in corso Vittorio Emanuele. Per cause da chiarire, intorno alle 20.45 hanno iniziato a litigare e in pochi minuti la situazione è precipitata, fino alla deriva violenta. I tre hanno cominciato a picchiarsi e spintonarsi. Uno di loro ha riportato un trauma cranico e facciale, oltre alla frattura del setto nasale. Il ragazzo di 27 anni, in condizioni critiche, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale. La lite ha spaventato i passanti, che hanno chiamato subito i carabinieri. Una volta sul posto, i militari hanno riportato la calma e ascoltato la versione dei protagonisti e di alcuni testimoni. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la violente elite sia scaturita all'interno dell'ambito familiare. Intanto continuano le indagini dei carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda. Scaltanissetta, guida senza patente, segnalata una donna all'autorità giudiziaria. Una donna senza patente di guida è dal volante di un'automobile sprovvista sia di assicurazione che di revisione è stata fermata da un equipaggio della sezione volanti la scorsa notte durante le attività di controllo sul territorio. La donna, che non ha mai conseguito la patente dagli accertamenti eseguiti dai poliziotti al CED Interforza, è risultato che in passato fosse già stata segnalata perché alla guida di mezzi, sempre senza patente. Una volta fermata è stata denunciata alla Procura della Repubblica e sanzionata amministrativamente. Il mezzo è stato poi sottoposto a sequestro amministrativo. Già durante la settimana gli equipaggi delle volanti a Scaltanissetta e in provincia hanno sanzionato 37 conducenti per violazioni al codice della strada e sequestrato quattro veicoli. Incontro al comune di Scaltanissetta con il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale. Alessandro Calzagirone. Molto soddisfacente e proficuo così il presidente Falcone ha definito l'incontro della Commissione Consiliare Sanità avvenuto lo scorso 10 gennaio, incontro al quale sin dalle 10 ha partecipato il commissario straordinario già direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Calzagirone. Le tematiche su cui è stato fatto il punto della situazione all'interno del Sant'Elia sono state molteplici, dal problema della carenza di anestesisti rianimatori dell'ospedale Sant'Elia, al reparto di pneumologia e infettivologia, alle guardie mediche, al pronto soccorso fino alla programmazione sanitaria territoriale futura e al decreto regionale che consentirebbe di reclutare i medici extra Unione Europea. Circa gli anestesisti rianimatori il commissario straordinario ha ricostruito la vicenda dal 2019 ad oggi chiarendo tutti i passaggi che riguardano sia le fasi concorsuali che le graduatorie relative e i meccanismi delle graduatorie che avrebbero favorito le città metropolitane mettendo in difficoltà il resto delle città siciliane. Tuttavia il reperimento di specialisti resta un nodo nazionale. Ed infine conclude il Presidente della Sesta Commissione con tutti i colleghi di tutte le forze politiche, siamo concordi sul procedere con una serie di incontri molto serrati in una serie di viste sia alle guardie mediche di via Malta che di Santa Barbara. E conclude è importante che si pensi ad una clausola di salvaguardia per le città come Caltanissetta. È fondamentale tutelare le strutture pubbliche. Esprime infine grande soddisfazione per il decreto dell'assessore regionale volo per la soluzione dei medici extra Unione Europea. I problemi ci sono, le difficoltà sono tante, avremo sempre un occhio attento e vigile. Lavori urgenti in via Red Italia a Caltanissetta, avviso del Comune. Chiusura alla transito martedì 17 e mercoledì 18 dalle 9 alle 17. Martedì 17 e mercoledì 18 gennaio dalle ore 9 alle ore 17. Avendo la necessità di intervenire con lavori urgenti per la messa in sicurezza di un balcone con affaccio sulla via Red Italia, la stessa via sarà chiusa al transito nei prossimi giorni. Nelle stesse ore interessate dai lavori, l'accesso alla via verrà consentito esclusivamente ai residenti della stessa. Ne abbiamo parlato con l'assessore in merito Ivan Rando. La viabilità verrà seguita per tutti coloro i quali da Corso Vittorio Emanuele vorranno raggiungere Santa Lucia utilizzando via Berengario-Ghetani. Croce Rossa, protocollo d'intesa con i panificatori per le attività socioassistenziali nel territorio di Caltanissetta. È stato firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa tra la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta e l'Associazione Unione Panificatori Nisseni per le attività socioassistenziali da effettuare nel territorio di Caltanissetta. Le due organizzazioni, rispettivamente rappresentate da Niccolò Piave e Antonio Amico, hanno sottoscritto le reciproche volontà di realizzare un progetto finalizzato alla diminuzione dello spreco alimentare attraverso il recupero e la donazione di prodotti alimentari o classificati come eccedenze alimentari o alimenti, che i panificatori interessati possono donare alla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Quest'ultima, che utilizzerà i suddetti prodotti alimentari, è finalizzata alla realizzazione di pasti alimentari da distribuire gratuitamente alle persone e famiglie bisognose individuate dalla Croce Rossa Italiana di Caltanissetta o su segnalazione dei servizi sociali dei comuni convenzionati. Inoltre, il protocollo d'intesa avrà ulteriori scopi a favore delle politiche ambientali e di riciclo attuate dalla Polisi della Croce Rossa Italiana. Difatti, grazie alle donazioni, si ridurranno in proporzione i quantitativi di rifiuti prodotti e, di conseguenza, i relativi costi economici, sociali ed ambientali di smaltimento degli stessi. Si proporranno meccanismi premiali, tra cui la riduzione della tariffa comunale sui rifiuti, come previsto dal regolamento Tari a favore degli operatori economici che donano le proprie eccedenze, anziché destinarle al rifiuto, diffondere la cultura dell'importanza di ridurre lo spreco alimentare e la donazione di beni ed infine realizzare e diffondere campagne di comunicazione e informazione sull'importanza della riduzione dello spreco alimentare. Caltanissetta, sicurezza stradale, sopra luogo della seconda commissione consigliare di Palazzo del Carmine, intervento dell'assessore comunale Ivan Rando. La seconda commissione consigliare permanente dopo la Villa Medeo ha effettuato nei giorni scorsi anche un altro sopra luogo. Questa volta però si parla di sicurezza stradale. Presenti anche gli assessori Ivan Rando ed Ettore Maria Garozzo, oltre al comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Più volte avevo già segnalato in commissione nelle sedute con il dirigente a ramo la pericolosità che questo attraversamento di via Guastaferro in primis, che percorro quotidianamente, dettato dal fatto che ha tre corsie di cui due a salire, che vanno dalla via Guastaferro alla via Leone 13esimo, dal fatto che c'è un blusso pedonale veicolare elevatissimo nei punti, diciamo, c'è negli orari di punta, quindi all'ingresso e all'uscita dalle scuole, lì abbiamo il Luigi Russo. E tutto questo preoccupava, perché noi dobbiamo comunque garantire la sicurezza in tutto il tessuto urbano. Allora, la mia proposta qual è? Intanto quella di garantire la presenza di personale e purtroppo, visto che il comando PM non ha molto personale interno, a questo punto c'è predisponente una convenzione con le associazioni di volontariato, quindi potrebbero essere i carabinieri in congedo, per esempio, per garantire appunto la presenza fisica di una struttura che va a tutelare i pedoni. Abbiamo visto anche il tratto di via Rosso di San Secondo, ma questo fuori, diciamo, dalla seduta di commissione, eravamo io, il consigliere Brugianiti e l'assessore Rando, proprio perché per andare a vedere anche altri tratti stradali, perché è chiaro che tutti quelli che sono nelle prossimità delle scuole vanno garantiti specialmente in orari di punta. Sul tema della sicurezza stradale, l'assessore Rando era già al lavoro dall'inizio del suo insediamento, puntando alla manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale, alla sensibilizzazione al rispetto del codice stradale, anche attraverso possibili iniziative. Per quanto abbia favore al momento colto l'invito del presidente della seconda commissione al sopralluogo in via Guastaferro, non vanno dimenticate neanche per un secondo, né le persone che hanno subito incidenti, né vittime della strada in altri tratti stradali. Infatti, come di concerto con la commissione, sto lavorando a questa direttiva assessoriale che tenga in considerazione tutte le arterie che maggiormente presentano criticità di diverso tipo, perché diverse sono le tipologie delle strade che percorriamo, diverse sono le fasce orarie nelle quali possiamo avere un maggior flusso veicolare o pedonale, diverse sono le motivazioni per le quali debbano essere attenzionate alcune arterie rispetto ad altre. L'intenzione mia è quella di intervenire immediatamente e di concerto già con il dirigente a ramo, il dottore Peruga, e con il quale abbiamo verificato lo studio di fattibilità che intendo portare avanti, tutte quelle azioni che possano essere dei deterrenti, perché di questo si tratta. Dobbiamo sempre noi ispirarci al rispetto della regola, perché in una città in cui si possa immaginare che non vi siano, per quanto sia utopistico, nessun incidente, nessuna vittima della strada, quindi tutti possono essere perfettibili, ma il compito dell'amministrazione è quello di tenere alta la guardia con gli strumenti a disposizione. Diverse le proposte avanzate nel corso del sopralluogo, alcune delle quali sono state accolte. Queste proposte si legano a quelle che sono le mie idee che porterò ulteriormente in commissione per rappresentarle alla commissione stessa, ad esempio l'istituzione dei tratti stradali con il limite di velocità a 30 km orari, i diveti di sorpasso o maggiore sensibilizzazione della cartellonistica verticale in ambito alla segnaletica degli attraversi pedonali, più o meno luminosi, a seconda appunto delle fasce orarie di maggiore flusso veicolare e pedonale, o ancora l'utilizzo dell'autovelox laddove è necessario. Al via la nuova stagione di musica arte con il concerto di Patrizia Cirulli al Teatro Margherita di Caltanissette. Con il concerto di Patrizia Cirulli è ripartita venerdì sera al Teatro Margherita l'attività concertistica dell'Associazione Culturale Musicarte. La candautrice milanese ha presentato il suo album Fantasia interamente dedicato ad Edoardo De Filippo. La Cirulli, dopo il beneplacito della famiglia De Filippo, ha trasformato le poesie dell'autore napoletano in canzoni ed è accompagnato da Renato Caruso alla chitarra, Mattia Boschia al violoncello e Gaetano Capitta alle percussioni. Il concerto è stato il primo della trentunesima stagione concertistica jazz di musica arte. Qualche anno fa ho pubblicato un altro album al titolo Mille Baci in cui avevo musicato poesie di grandi poeti e avevo inserito anche una poesia di Edoardo e a quei tempi mi diede appunto il benestare Luca De Filippo. Poi purtroppo è mancato e successivamente gli altri eredi mi hanno accordato i permessi per realizzare l'album intero che avevo nel cassetto da qualche anno perché queste composizioni sono nate nel 2013 mentre l'album su Edoardo è stato pubblicato nel 2022 a ottobre e quindi li ringrazio profondamente perché senza questa loro approvazione non avrei potuto realizzare questo disco. Ci sono degli innesti anche di contaminazioni diciamo così tra la musica d'autore, anche la musica classica da camera, a volte momenti folk. arte e cultura incontro alla sala Borsellino di San Cataldo con Gianfranco Cammarata e Maria Concetta Naro. Sabato pomeriggio nella sala Borsellino a San Cataldo si è tenuto un incontro guidato dallo scrittore Gianfranco Cammarata e dalla poetessa Maria Concetta Naro per parlare di arte e cultura. Sono incontri periodici che si tengono mensilmente dove attraverso dei gruppi di lettura accompagnati a momenti musicali si parla di realtà attraverso la cultura. Come ogni mese, intorno alla metà del mese, noi facciamo questi che chiamiamo gruppi di lettura ma bisogna specificare che qui leggiamo la realtà attraverso le arti e la cultura, non leggiamo solo libri. Infatti stasera noi abbiamo ospiti due musicisti, una pianista e un cantante, Emma Vitale e Marzia Lessi. Abbiamo un regista che ci parlerà del suo ultimo film, Michele Falzone. Abbiamo uno scrittore, stasera cominciamo anche con i collegamenti in video, che ci parlerà dalla Toscana. Giuseppe Ferreri tratterà un ritrovamento molto importante della Villa del Casale di Piazza Armerina. In più ci saranno tanti interventi del pubblico che adesso non so neanche quali siano, perché tutto accade nell'ottica della sana improvvisazione. Apriamo la pagina sportiva con il calcio Serie D, la San Cataldese vittoriosa contro il Cittanova al Mazzola. Nel campionato di eccellenza, Nissa sconfitta sul campo dell'oratorio marineo. La San Cataldese brinda la sesta vittoria della stagione nel gironei di Serie D, superando di misura il Cittanova al Valentino Mazzola di San Cataldo. Basta un gol ai Verde Maranto per chiudere il match. Rete realizzata da Baglione al 42esimo del primo tempo. Un risultato fortemente voluto dall'undici di Pietro Infantino, che adesso può guardare con maggiore serenità al proseguo del campionato. Per quanto dimostrato nelle ultime partite, la San Cataldese può nettamente aspirare a un posto nella zona playoff, che attualmente dista sette lunghezze. I risultati della diciannovesima giornata. Vibonese 31, Trapani 27, Santa Maria e San Cataldese 25, Ragusa 22, Realaversa 21, Acireale e Canicati 20, Cittanova 18, San Luca 17, Paternò 15, Mariglianese 11. Nel campionato di eccellenza, Girone A, la Nissa incappa nella settima sconfitta stagionale sul campo dell'oratorio di Marineo, piccolo centro del palermitano, che conta poco più di 6.000 abitanti, che tra pochi giorni intitolerà il campo sportivo a Biagio Conte. I nisseni hanno l'opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore a dieci minuti dalla fine del primo tempo, ma dagli undici metri Morales non riesce a superare l'estremo difensore avversario. Nella ripresa i marinesi guadagnano spazi importanti in avanti e trovano la via per sbloccare il risultato e l'ex biancoscudato Matteo Bisogno assegnare il gol che decide la partita. In prossimità del triplice fischio finale il Marineo va vicino al raddoppio. A fine gara comprensibile la soddisfazione della squadra palermitana per i tre punti conquistati, certamente pesanti, in chiave salvezza. Volti scuri in casa Nissa. I risultati della diciassettesima giornata. Castellammare Enna 1 a 3, Parmonval Leonfortese 1 a 0, Acragas Mazzara 2 a 0, Casteldaccia Sciacca 2 a 1, Profavara Resuttana 2 a 0, Gela Cus Palermo 2 a 1, Oratorio Marineo Nissa 1 a 0, Mazzarese Don Carlo 1 a 1. La classifica. Acragas 42, Enna 41, Profavara 37, Don Carlo 33, Mazzara 29, Mazzarese 28, Sciacca 27, Casteldaccia 23, Nissa 22, Oratorio Marineo 18, Castellammare 17, Leonfortese 16, Gela 12, Resuttana e Cus Palermo 11, Parmonval 8. Volley serie B2 femminile zafferana insuperabile per l'Alba Verde Caltanissette. Le ragazze etnee si confermano prime della classe. La zafferana si aggiudica il big match dell'ultima giornata di andata del girone M della serie B2 femminile, in quattro set ratificando il titolo di campione d'inverno ai danni dell'Alba Verde presentatasi nella palestra di AC Castello con le giuste ambizioni della seconda della classe. Al termine di una gara senza esclusione di colpi, la formazione catanese mantiene la propria imbattibilità e porta a quattro punti il vantaggio sulla squadra nissena, che adesso, dopo la vittoria della pallavolo crotone, scivola al terzo posto in classifica. Uscite da una settimana difficile causa infortuni, le pallavoliste nissene non hanno lesinato grinta impegno. È proprio con questo spirito che l'Alba Verde deve ripartire nel girone di ritorno, recuperando le infortunate, riflettendo sugli errori e affrontando con il piede schiacciato sull'acceleratore la lunga volata del girone di ritorno. I risultati della tredicesima giornata del campionato di serie B2 girone M Pallavolo crotone funivia etna 3 a 0, procori ericina fidelis torretta 2 a 3, planet ardens comiso 3 a 1, zafferana alba verde 3 a 1, saracena gioiosa 3 a 2, bricositi stefanese 3 a 1, volle region cuscatania 1 a 3. La classifica. Zafferana prima con 35 punti, pallavolo crotone 32, albaverde 31, procori ericina 27, fidelis torretta 25, gioiosa e cuscatania 24, funivia etna 18, saracena a 17, volle region 15, bricositi 12, ardens comiso 6, planet 4, chiude la stefanese a 3 punti. Basket serie D, settima vittoria consecutiva dell'invicta caltanissetta a Trapani. L'invicta soffre a Trapani ma esce vittoriosa per 97 a 80 contro una Virtus agguerrita che corre, fa canestro e lotta fino all'ultimo secondo senza mai mollare. La squadra trapanese parte forte tenendo testa alla capolista nissena chiudendo il primo quarto 24 pari. I padroni di casa non mollano ma il calo fisico di alcuni giocatori e alcune super giocate dei nisseni consentono all'invicta di portare a casa anche il terzo quarto e poi tutta la posta in palio. L'invicta c'entra così la settima vittoria consecutiva, probabilmente la più sofferta insieme alla trasferta di Sant'Agata e resta più 4 sulla seconda dando un'ulteriore prova di maturità. Ancora basket, campionato di promozione, il Cusn caltanissetta supera il Gela nel derby del Nisseno e si avvicina alla Vetta. Vittoria e buona prestazione da parte del Cusn caltanissetta di basket che al pala Gannizzaro batte i cugini del Gela e continua a scalare la classifica con l'obiettivo finale della vittoria del campionato. I ragazzi guidati da Armando Torturici che veste i panni di coach ed allenatore hanno sempre dominato il match dall'inizio alla fine dei quattro tempi, non soffrendo mai gli attacchi gelesi e facendo leva sulle ripartenze, vero punto di forza del Cusn. Noi stiamo provando a vincere il campionato, in casa al momento siamo imbattuti, oggi è stata una bellissima partita, un derby con gli amici gelesi, noi abbiamo perso l'andata in casa loro e oggi abbiamo vinto anche con la differenza canesta e siamo molto felici. Il nostro obiettivo è quello intanto di crescere, il Cusn da casa a più di 20 giocatori, adulti, nisseni, quindi è una cosa bellissima. Più un ragazzo che si distingue particolarmente, che viene nella Trapani, che studia da noi. Il nostro obiettivo intanto è crescere, far crescere la realtà e se possibile proveremo a vincere il campionato. Abbiamo perso finora due partite, una col Gela e una per Ragusa in trasferta, di pochissimo, di misure. Per Ragusa era di quattro, quindi ora che la incontreremo in casa speriamo anche di vincere per differenza canestri e questo è il nostro obiettivo. Speriamo di vedere sempre più tifosi, oggi il palazzetto era bello gremito di persone, siamo molto felici del progetto. È tutto, vi lascio al Meteo, alle informazioni di pubblica utilità, grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Amici trevi meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni, situazione davvero molto variabile sull'Italia. Questo martedì vedrà altri sistemi nuvolosi raggiunge il nostro paese, la pressione atmosferica è diminuita e rimarrà bassa, tra l'altro è in arrivo anche aria decisamente più fredda. Controlliamo intanto le nuvole attese sull'Italia, principalmente si parte con nuvole al centro-sud e sul versante tirrenico stanno anche frequenti le precipitazioni. Poi però anche al nord, tempo in peggioramento, arriva aria più fredda e al nord parliamo anche di nevicate in pianura tra tardo, pomeriggio e sera. Come vedete inizialmente le piogge interessano il centro-sud, però ecco la neve che spunta al nord tra tardo, pomeriggio e sera, anche in pianura sulla pianura padano-occidentale, poi a fine giornata comunque situazione che tenderà a migliorare almeno nelle regioni settentrionali. Quindi in definitiva ci attende un martedì davvero molto variabile e instabile. Pioggia al centro-sud anche sotto forma di temporale, quindi precipitazioni localmente intense. Parecchio vento, vento di libeccio e temperatura al centro-sud ancora miti caleranno nella seconda parte della settimana. Ma al nord poi arrivano le nuvole dal pomeriggio, arrivano le precipitazioni ed ecco la neve che interesserà sicuramente le zone montuose, ma localmente anche le pianure. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, consultate l'app di Trebi Meteo.